Grazie mille, grazie soprattutto del privilegio di poter intervenire sia pure a distanza ma dalla vostra sede romana alla assemblea organizzativa di questa grande organizzazione che oltre ad avere una funzione sociale ha anche inevitabilmente anche una funzione culturale per un paese come il nostro che di cultura credo abbia oggi un speciale bisogno. Il titolo che mi sono auto assegnato il mondo accelerato verte sui cambiamenti che stanno avvenendo su scala planetaria e che sono dei cambiamenti strutturali cambiano gli assetti geopolitici quindi la distribuzione del potere su scala mondiale attraverso almeno quattro fenomeni correlati che definirei in questo modo. Il primo, forse il più importante ma il meno conosciuto, il meno dibattuto anche dai media riguarda la demografia. Questo è un pianeta non solo sovrappropolato ma con una popolazione mal distribuita in modo molto asimmetrico. Siamo ormai circa 8 miliardi su questo pianeta al tempo dei nostri nonni eravamo un miliardo e mezzo quindi voi capite che tipo di accelerazione ha subito la popolazione l'umanità in questi pochi decenni. Diventeremo probabilmente circa, diventeranno temo, circa 10 miliardi alla fine di questo secolo ma soprattutto quello che è interessante notare è come certe aree del pianeta siano statiche o addirittura in declino e questo è il caso del nostro paese. Altro aspetto che a mio avviso dovrebbe rientrare nella discussione pubblica, nella discussione politica, da 5 o 6 anni ci sono meno italiani malgrado il flusso migratorio. Anzi se non ci fosse il flusso migratorio saremo veramente in una sorta di inverno demografico. Insomma le previsioni sono per un'Italia che nel giro di una ventina d'anni dovrebbe scendere tra i 52 e i 54 milioni di abitanti dagli attuali circa 60 e questo evidentemente è un cambio epocale innanzitutto perché la popolazione sarà ovviamente più anziana mediamente di quanto già non sia. Vi ricordo che in Italia l'età mediana è di 44 anni ma anche perché mi riesce difficile immaginare come si possa immaginare una crescita economica nel contesto di un declino demografico. Ma sull'Italia poi adesso arriverò. Il secondo fenomeno riguarda la finanziarizzazione dell'economia su cui parlando a un'assemblea della CGL non credo mi debba soffermare in modo particolare salvo notare che la storia insegna come in tutte le grandi fasi di finanziarizzazione dell'economia e ve ne sono state nel passato ad ogni grande fase di questo tipo corrisponde poi inevitabilmente un cambiamento di paradigma geopolitico cioè il potere si sposta da una parte all'altra da una comunità all'altra nel pianeta e questo è un tema che affronterò poi nella seconda parte di questa nostra chiacchierata. Il terzo elemento è la questione cibernetica e in particolare il ruolo di internet nella comunicazione sociale e nella struttura politica ed economica delle società in tutto il pianeta ma in particolare ovviamente nel nord del pianeta e qui in Europa dove si nota contemporaneamente una estensione della possibilità di comunicare ma anche un notevole caos da cui derivano poi delle comunicazioni che spesso hanno non il senso di informare su ipotesi proposte e quant'altro ma di disinformare le famose fake news e di orientare l'opinione pubblica. Questo porta fra l'altro a una singolarizzazione cioè le persone si sentono tutte un po' eccezionali e devono raccontarci questa loro eccezionalità discettando di tutto e del contrario di tutto. Insomma abbiamo visto il festival dei virologi che fanno politica o dei politici che fanno virologia e questo credo che sia uno dei lasciti più rilevanti di questo fenomeno. In termini più seri ma poi non che non siano seri quelli che ho citato contestuale a questo fenomeno è quello dell'algoritmo come programmatore universale cioè sembra che ormai gli algoritmi possano decidere le politiche sociali, economiche, fiscali, monetarie, orientare la finanza. Insomma tutto molto interessante e anche molto comodo perché si riduce tutto a una dimensione computazionale peccato che l'algoritmo non abbia una razio umana e soprattutto non abbia necessariamente una morale anzi non ce l'ha proprio e quindi abbiamo una perdita anche della possibilità per noi umani di controllare quello che avviene nelle relazioni fra noi in questo pianeta. E infine e questa è la parte di mia più stretta competenza tutto questo accelera il cambiamento geopolitico. Se dovessi indicare una questione oggi rilevante su scala mondiale per quanto riguarda le dinamiche geopolitiche direi che quella più rilevante è la tendenza al disordine, tendenza al disordine che deriva dal declino dei grandi imperi, delle grandi potenze e ancora più specificamente dal declino dell'impero americano. L'impero americano ovviamente formalmente non esiste ma di fatto sappiamo che dalla seconda guerra mondiale sono gli Stati Uniti, la potenza con una visione e una strutturazione della propria potenza mondiale che dettano un po' il ritmo o cercano di dettare il ritmo della geopolitica a livello mondiale e siccome noi siamo parte di questo imperio alla fine della seconda guerra mondiale questo ci riguarda molto da vicino. Questa crisi dell'impero americano è sostanzialmente una crisi di una comunità, di una grande nazione come quella americana che semplicemente come succede spesso nella storia degli imperi si è cominciata a stancare di quelli che sono i costi della gestione di un impero. Quello che noi vediamo nella società americana nella spaccatura per esempio fra una classe anche una classe operaia bianca che si sente deprivata, che si sente sottovalutata, che si sente minacciata da per esempio minoranze etniche che non sono mai state così rilevanti in America come oggi e questo porta fra l'altro a una spaccatura politica e sociale profondissima che vede oggi, cito solamente un fatto, ci sono come sapete due partiti in America che in realtà non sono dei partiti ma direi sono delle organizzazioni che poi però si ritrovano intorno a una visione del mondo e della vita loro, ecco su 100 matrimoni oggi in America i matrimoni fra un repubblicano e una democratica o fra un democratico e una repubblicana sono il 4%, cioè vi sono più matrimoni misti fra bianchi e neri di quanti ve ne siano fra rosso e blu essendo il rosso il colore dei repubblicani e blu il colore dei democratici. Non resta poi molto altro da dire sull'impero americano se non vederlo dal punto di vista nostro e giungo quindi all'Italia. Quello che è importante ricordare quando parliamo di Italia in questo contesto che si muove molto velocemente è che noi siamo dall'8 settembre 1943 un paese a sovranità molto limitata. Se non capiamo questo capiamo veramente poco di chi siamo, di quello che possiamo e di quello che possiamo volere soprattutto. Questo vincolo ha due caratteri, uno di carattere strategico ed è quello appunto dell'impero americano e qui forse può aiutare questa banale cartina che ricorda come l'Italia sia nella Nato, che l'Italia abbia sul proprio territorio alcune importanti basi americane o della Nato e come sul nostro territorio vi siano circa 15.000 soldati americani. Dopo la Germania, guarda caso Italia-Germania, l'Italia è il secondo paese come presenza militare americana. Questa presenza militare americana è data dal fatto che al di là del valore dell'Italia da un punto di vista complessivo noi siamo una piattaforma logistica in mezzo al Mediterraneo e quindi se c'è da controllare quest'area strategica cosa meglio del nostro paese per poter avere una visione d'insieme, per poter intervenire quando è il caso. L'abbiamo fatto per esempio nelle guerre in Jugoslavia, l'abbiamo fatto in Libia, potremo farlo in futuro. Una piccola parentesi. Ricorderete come tre anni fa ci fu una grossa polemica sul fatto che l'Italia aveva firmato un accordo con la Cina con un memorandum d'intesa anche che dava un senso quasi politico a questo accordo e tra le altre cose era in ballo il porto di Trieste cioè si parlava di investimenti cinesi nella nostra portualità e soprattutto a Trieste. In realtà il governo italiano non era ovviamente interessato a un rapporto di tipo politico tantomeno di schierarsi con la Cina anche per le ragioni appunto che vediamo in questa carta vedeva la questione del porto di Trieste unicamente come una questione di carattere economico e commerciale. Se avesse notato la distanza che separa le basi del nord-est americane da Trieste si sarebbe reso conto che per gli americani Trieste è un porto militare nel senso che è il porto delle basi di Vicenza e dintorni che sono fra le più importanti in Italia e in Europa. E questo mi porta a una considerazione di base e cioè che noi siamo un paese a sovranità limitata ma soprattutto siamo abbastanza inconsapevoli di esserlo cioè continuiamo a ragionare come se fossimo più o meno liberi di scegliere quello che vogliamo. E siccome a questo declino vedremo poi quanto lungo e quanto strutturale dell'impero americano non corrisponde la crescita di un'alternativa cioè io non riesco a immaginare onestamente una Cina in grado di dominare il mondo nei prossimi 10 o 20 anni e forse mai non parliamo della Russia se qualcuno mi parla dell'Europa mi deve anche dare il famoso numero di telefono cui chiamare se voglio parlare con l'Europa che chiaramente non c'è ecco tutto questo mi porta a ritenere che nei prossimi anni vedremo ancora di più un'accelerazione di queste dinamiche e questa accelerazione ahimè non sarà sempre pacifica e questo mi porta alla stretta attualità cioè mi porta qui nella parte centro orientale del nostro continente non così lontano dalle nostre frontiere come vedete dove si consuma oggi una partita di grande valore strategico tra la Russia e l'America come spesso succede le partite fra Russia e America non si giocano sul territorio russo o sul territorio americano che sarebbe piuttosto pericoloso per entrambe ma si giocano ai margini di questi territori dove per territorio americano non intendo ovviamente solamente il Nord America ma anche lo spazio atlantico lo spazio dell'impero europeo dell'America e siccome siamo appunto a ridosso delle nostre frontiere quello che è avvenuto negli ultimi 30-40 anni cioè dalla fine della guerra fredda fino ad oggi è stato un avanzamento del nostro impero di appartenenza sotto forma di alleanza atlantica fin dentro a repubbliche già sovietiche come i paesi baltici, Estonia, Lettonia, Lituania con un arretramento conseguente della Russia veramente impressionante nel 1994 se ne è andato l'ultimo soldato russo da Berlino e adesso gli avamposti russi verso l'Occidente sono la Crimea che è stata ripresa dalla Russia dopo la crisi del 2014 in Ucraina e poco altro mentre si parla, ed è questo il punto di un possibile ingresso dell'Ucraina nella Nato che a mio avviso non è all'ordine del giorno per i prossimi decenni ma di questo si tratta oggi questa carta che segue vi fa vedere come nel tempo dopo il crollo dell'Unione Sovietica la Nato sia avanzata cioè l'America sia avanzata molto ridosso dello spazio russo e questo alimenta una antica fobia russa che probabilmente morirà con la Russia quando mai cioè il senso di accerchiamento la Russia è uno spazio che ha un'identità o meglio ha un'identità che è un'identità spaziale talmente ampia la Russia che fa di questa sua ampiezza questi famosi nove fusi orari quasi il senso stesso della propria esistenza e paradossalmente ma non troppo la Russia si considera da sempre minacciata da un lato da una potenza europea lo è stata per esempio la Francia ai tempi di Napoleone la Germania ai tempi di Hitler oggi in Europa c'è l'America quindi sul fronte occidentale teme la pressione americana sul fronte asiatico invece ci sono due tipi di pressione che in questo momento mettono in crisi la Russia una quella islamista-jihadista a partire dal Caucaso che però ha un valore relativo dal punto di vista strategico e una in prospettiva che è quella cinese considerando che di fronte ai 7-8 milioni di russi che abitano agli sterminati spazi siberiani vi sono centinaia di milioni di cinesi appena oltre frontiera ma alcuni anche dentro alla Russia che premono quindi la Russia si sente in una condizione di notevole fragilità anche considerando ancora una volta il dato demografico i russi sono 142 milioni quindi sono veramente una entità minima considerando il loro spazio e soprattutto quasi tutti questi 142 milioni sono situati a ovest della catena degli Urali che separa la Russia europea da quella asiatica qual è il precetto della Russia a partire da questa sua idea di se stessa quella di tenere il più ampio spazio possibile neutralizzato fra sé e il presunto effettivo nemico occidentale l'Europa in mezzo quella fra Germania e Russia è storicamente l'Europa per cui si fanno le guerre le guerre europee le guerre mondiali sono le terre insanguinate del nostro continente che vanno dal Mar Baltico e dal Mar Nero e sono estremamente vicine anche alla nostra frontiera nord orientale oggi la partita si gioca soprattutto in Ucraina l'Ucraina è dal punto di vista geopolitico una entità che ha innanzitutto un grande valore simbolico dal punto di vista russo perché Kiev è nella storiografia russa considerata diciamo la culla dell'impero dello Stato russo che ha generato poi l'Unione Sovietica e la Russia così come sono oggi l'Ucraina è stata determinata nei suoi attuali confini in età sovietica come entità federata dentro l'Unione Sovietica e ha avuto in tempo sovietico una notevole importanza sia come granaio del paese sia anche come più tardi centro industriale soprattutto nell'est del paese dove l'industria militare in particolare quella spaziale oltre alle miniere di carbone ha avuto una funzione sistemica all'interno dell'URSS il problema del dissolvimento dell'Unione Sovietica è che l'Unione Sovietica si è dissolta sulla base delle repubbliche federate perché il principio fondativo dell'Unione Sovietica voluto da Lenin era un principio federale cioè le repubbliche entravano insieme in questo spazio enorme sovietico però si riservavano il diritto di secessione diritto che appunto è stato esercitato fattualmente con la fine appunto degli anni 80 e primi anni 90 quando pezzo per pezzo i vari paesi se ne sono andati dal centro e hanno costruito degli stati più o meno indipendenti oggi l'Ucraina è la posta in gioco dello scontro fra Russia e America la Russia considera la necessità di mantenere una qualche influenza se non il controllo diretto sull'Ucraina una esigenza vitale di sicurezza considerando che siamo a poche centinaia di chilometri dalle mura del Cremlino l'America considera che finché la Russia non recupererà il controllo dell'Ucraina non sarà mai più una grande potenza forse le due visioni sono parallelamente un po' esagerate e enfatizzate ma queste sono e queste informano anche la visione dei decisori da una parte russi e dall'altra americani che cosa è in gioco quindi oggi in Ucraina beh niente po' di meno che la faccia il prestigio e anche la potenza delle due massime potenze che sono oggi nel nostro continente l'America e la Russia e siccome negli ultimi tempi la Russia ha ammassato circa 100-120 mila soldati non lontano dalla frontiera ucraina l'America e altri paesi occidentali in particolare l'Inghilterra hanno stanno armando l'Ucraina e stanno avanzando truppe nella Polonia nella Romania insomma nell'area intermedia tutto questo ha creato una tensione molto forte che a quanto pare potrebbe avere anche degli esiti incontrollati si dice che la Russia vuole invadere l'Ucraina può essere io francamente non credo che sia questo lo scopo anche se potrebbe accadere non credo che sia questo lo scopo della pressione russa anche perché quando devi invadere qualcuno non glielo dici con qualche mese di anticipo credo che lo scopo sia quello di mantenere destabilizzata l'Ucraina cioè la condizione senza la quale non la Russia può vivere da un punto di vista della sicurezza non è quello di recuperare Kiev che implicerebbe un'invasione in grande stile con i carri armati e quante altre cose abbiamo già visto orribilmente nel secolo passato ma l'obiettivo è quello di mantenere l'Ucraina in una sorta di limbo che non sia né ovviamente sotto il completo controllo russo né sotto il completo controllo americano insomma sia più o meno neutralizzata potrebbe questo accadere alla fine di questa crisi è possibile ma c'è anche il rischio quando la tensione sale a questi livelli e quando la comunicazione enfatizza questa tensione che la guerra che peraltro è già in atto nella parte orientale della dell'Ucraina possa degenerare e quindi si creino le condizioni di un conflitto che in realtà nessuno vorrebbe che nessuno ha pianificato ma che potrebbe accadere semplicemente per un incidente o per qualche comandante locale che decide di aprire il fuoco contro assetti nemici in tutto questo ci siamo noi europei noi europei insisto sul noi siamo molto divisi e lo siamo più o meno sulla base di quello che è stato anche il nostro ruolino storico nella nato cioè i paesi fondatori i paesi dell'europa occidentale di quando l'europa era divisa in due hanno un rapporto storicamente molto migliore con la russia di quanto non lo abbiano i paesi un tempo parte dell'impero russo dell'impero sovietico quindi i paesi di quello che una volta si chiamava est e che oggi si chiama europa centrale perché est pare che sia una parolaccia e mi riferisco in particolare ai paesi baltici Estonia Lettonia e Lettuania come dicevo alla Polonia e un altro paese molto importante è la Romania poi a nord nell'area baltica sempre a ridosso della Russia vi sono due paesi la Svezia e la Finlandia che sono formalmente neutrali ma di fatto sono molto più atlantici di diversi paesi atlantici e hanno una storia di relazioni diciamo non amichevoli con la Russia che si perde nei decenni e nei secoli passati è interessante notare infatti come in questi giorni in queste ore i due più importanti paesi dell'Europa occidentale e cioè la Germania e la Francia abbiano messo in piedi o meglio rimesso in piedi un negoziato con la Russia e con l'Ucraina per arrivare a una qualche forma di accordo i russi propongono che le regioni orientali dell'Ucraina dove c'è una forte presenza russa e russofona possono avere una qualche notevole anzi autonomia da Kiev pur restando in Ucraina in questo modo sarebbe garantita la destabilizzazione permanente dell'Ucraina cioè il fatto che in Ucraina vi sia e sia parte integrante della struttura dello Stato una presenza di popolazione fortemente filorussa o comunque legata a Mosca mentre nella Ucraina occidentale come sappiamo il tono è tutt'altro anche con estremi nazionalismi e nostalgie addirittura di quella che fu l'invasione nazista dal punto di vista sovietico la liberazione dall'Unione Sovietica dal punto di vista di alcuni patrioti ucraini chiamiamoli così che vedevano nei tedeschi dei liberatori più che degli invasori dicevo di Francia e Germania i famosi negoziati o non tanto famosi che sono in corso stanno andando piuttosto male per una ragione molto semplice come è già accaduto nel 2014 quando vi fu il rovesciamento del regime filorusso di Yanukovic e quindi lo spostamento verso occidente dell'Ucraina ogni volta che gli europei e in particolare i francesi e i tedeschi provano a mettere becco nella partita che è una partita fra Russia e America vengono respinti con perdite forse qualcuno ricorderà che nel 2014 appunto nel pieno della crisi i ministri degli esteri di Francia Germania e all'epoca anche Polonia raggiunsero un accordo con Yanukovic la mattina per trovare appunto un compromesso nei termini che facevo prima cui facevo prima riferimento cioè una federalizzazione dell'Ucraina e la sera americani e britannici invece spinsero la parte armata del movimento di Moidan a rovesciare Yanukovic a metterlo in fuga e a spostare quindi l'asse dell'Ucraina verso l'Occidente perché Germania e Francia cercano di evitare uno scontro di queste dimensioni ovviamente per garantire la pace e la sicurezza in Europa ma anche perché considerano che una guerra di questo tipo anche se magari fosse una guerra limitata avrebbe delle conseguenze enormi per noi europei e quindi anche per questi paesi dell'Europa centro-occidentale sotto vari profili innanzitutto una migrazione di popolazione che potrebbe essere intorno ai 4-5 milioni di esseri umani che lascerebbero i territori colpiti dal conflitto sempre che il conflitto resti limitato e si sposterebbero verso l'Occidente ma poi questo è l'aspetto magari anche che può avvenire senza guerra nuove sanzioni contro la Russia e nuove controsanzioni russe contro di noi con possibile anche impatto sull'energia già ora sappiamo qual è lo stato del mercato energetico in Europa e in Italia sappiamo quanto valga per l'inflazione che sta cominciando a galoppare a ritmi impensati fino a qualche anno fa figuriamoci in caso di sanzioni che colpiscano le esportazioni di gas russo verso l'Europa uno dei punti di contenzione riguarda in particolare il Nord Stream che è questo gasdotto che va dalla Russia fino alla Germania attraversando sotto le sue acque il Mar Baltico esiste già un primo tubo è finito praticamente il secondo ma non può essere ancora attivato perché da parte americana e di alcuni paesi europei si sono poste delle condizioni alla Germania per poter mettere in attività questo gasdotto fondamentale che poi naturalmente trasporterebbe il gas russo anche verso il resto dell'Europa Italia compresa molti dicono che la Russia potrebbe decidere autonomamente di colpirci semplicemente chiudendo il rubinetto limitando il rubinetto non credo che questo avverrebbe spontaneamente cioè avverrebbe solo in caso di guerra perché è vero che noi siamo dipendenti dal gas russo ma è anche vero che la Russia dipende dal mercato europeo quindi esiste una interdipendenza gasiera fra Russia ed Europa quanto alla idea americana di poter sopperire a queste forniture energetiche con una fornitura aumentata di gas naturale liquido appartiene a mio avviso alla futurologia e non alla realtà almeno dei prossimi decenni su questo potremmo andare avanti ma per concludere il giro d'orizzonte poi per se ci sono domande anche per lasciare spazio alla vostra interlocuzione volevo completare il giro di quello che avviene attorno a noi considerando il fatto che da un anno circa l'Italia confina a sud cioè al di là dello stretto di Sicilia con la Turchia e con la Russia perché come sappiamo in Libia non c'è più dal 2011 Gheddafi c'è una instabilità permanente che ha aperto un vuoto geopolitico alla frontiera meridionale del nostro paese che ha portato la Turchia in Tripolitania e la Russia in Cirenaica la Turchia in modo più strutturato la Russia in modo ancora un po' informale con le milizie Wagner che sono delle compagnie di ventura al servizio di Putin ma la sostanza è che noi abbiamo un paese considerato nemico dalla nostra alleanza la Russia in Cirenaica è un paese formalmente alleato ma che di fatto si fa gli affari suoi e li fa in maniera alla maniera di un impero che vuole tornare a essere tale cioè la Turchia a Tripoli consideriamo solo un fatto sappiamo come i flussi migratori dal est in particolare lungo la rutta balcanica sono sotto il controllo della Turchia tanto è vero che la cancelliera Merkel al suo tempo andò da Erdogan per stipulare un accordo ti do 6 miliardi di euro e tu ti hai buoni i tuoi 3 milioni o 4 milioni di siriani e lo stesso potrebbe avvenire a Tripoli nel senso che la rotta centrale che porta dall'Africa verso l'Italia e che passa per la Tripolitania è anche questa in mano a Erdogan quindi non mi stupirei se fra qualche tempo se necessario il signor Erdogan o comunque la Turchia possa dirci che è disposta a controllare i flussi migratori in cambio di tot finanziamenti per concludere uno sguardo al nostro sistema europeo se ancora si può chiamare tale che comunque è imperniato e sempre di più dal punto di vista italiano sulla coppia franco tedesca che in realtà è una coppia di necessità non tanto di coincidenza di interessi o di approcci ma vorrei guardare questa coppia dal punto di vista italiano noi oggi abbiamo un debito in crescita per usare un eufemismo che è garantito dalla Germania è garantito dalla Germania perché l'Italia è un paese sistemico nell'eurozona cosa vuol dire? vuol dire che noi abbiamo le dimensioni sufficienti e la debolezza più che sufficiente per poter far saltare il banco e siccome se salta il banco salta non solamente l'eurozona ma salta il sistema finanziario mondiale c'è un interesse dei principali paesi europei anzitutto ma anche degli Stati Uniti d'America affinché questo non avvenga e da Obama in poi abbiamo visto come anche attraverso poi le filiazioni europee della finanza americana l'America abbia fatto capire ai tedeschi che l'austerità doveva avere dei limiti e che l'interesse degli Stati Uniti era di evitare una destabilizzazione dell'impero europeo a partire dall'eurozona cioè a partire dai paesi più importanti come Italia Francia e Germania che avrebbe delle conseguenze planetarie e avrebbe delle conseguenze probabilmente anche non solamente economiche e finanziarie quanto può durare questa nostra situazione abbastanza paradossale perché in genere i paesi potenti si distinguono in due categorie quelli che sono potenti perché lo sono e quelli che sono potenti perché sono talmente impotenti ma di dimensioni tali da poter avere un'influenza anche rispetto ai potenti è questo paradosso che si è creato fra noi la Germania per quanto vale ancora la Francia e gli Stati Uniti e per cui contiamo molto più di quello che pensiamo di contare ma forse non ce ne rendiamo perfettamente conto voglio dire che se la Germania dovesse per qualche motivo decidere che insomma non vale più la pena tenere in piedi a qualsiasi costo l'Italia per esempio passando a una forma di commissariamento diretto e non più indiretto come quello attuale beh allora le cose sarebbero veramente drammatiche cioè quella sovranità limitata di cui parlavo tenderebbe verso lo zero ma anche questo è un aspetto che viene a mio avviso poco discusso perché la Germania poi ha uno speciale interesse a impedire che avvenga un collasso finanziario del nostro paese questa carta credo che sia abbastanza esplicativa perché una parte sostanziale la parte sostanziale del nostro sistema industriale è strettamente interconnessa con quello tedesco possiamo dire che da un punto di vista geoeconomico il tratto che va dalla frontiera del Brennero a Verona è una sorta di condotta da cui passano i flussi economico-commerciali tra la principale economia europea quella tedesca e una importante la terza economia europea che è quella italiana questa interconnessione non esiste con altri paesi europei non esiste nemmeno con la Francia con la Francia esiste un sistema di altro tipo anche perché l'industria francese come sappiamo è basata specularmente alla nostra non sulla piccola e media ma sui cosiddetti campioni nazionali quindi sui grandi conglomerati aziendali che sono poi in gran parte diretti dallo Stato anzi direi direttamente dalla Presidenza della Repubblica perché la Francia è di fatto una monarchia e questo rende il rapporto francese con l'economia italiana con l'industria italiana di tipo piuttosto predatorio piuttosto che di interdipendenza e sarà anche interessante osservare come il recente accordo bilaterale che l'Italia ha stipulato con la Francia possa influire sui rapporti complessivi ma anche economici fra i nostri due paesi visto il grado di presenza di alcune grandi industrie francesi in Italia non bilanciato da analoga presenza italiana in Francia vorrei anche far notare che il Limes germanico come l'abbiamo chiamato anche perché corrisponde più o meno alla linea gotica e alla classica area di influenza tedesca e a suo tempo anche francese nel nostro paese questa area è legata da come dicevo una notevole interdipendenza con il sistema industriale tedesco ma il sistema industriale tedesco è a sua volta in una fase critica perché è basato innanzitutto su tecnologie largamente novecentesche con in particolare il settore automobilistico che attraversa una fase particolarmente critica in generale il sistema il modello economico tedesco il cosiddetto ordo liberalismo basato su una forte capacità uso un eufemismo di esportazione la Germania ha un surplus commerciale incredibile con il resto del mondo ma anche con il resto dell'Europa diventa sempre meno tenibile nel momento in cui si chiudono le frontiere si aprono i protezionismi e il clima di tensione o di guerra incombe intorno a noi quindi siamo certamente in difficoltà ma non siamo i soli ad esserlo perché un cambio di paradigma credo sia inevitabile e necessario a un livello più ampio chiudo con una carta che vuole che vuole immaginare quello che può essere il posizionamento strategico dell'Italia nei prossimi decenni e che sia un senso deve essere cominciato a pensare da oggi noi abbiamo come ho detto un rapporto privilegiato ma anche subordinato da una parte con l'asse Berlino-Parigi che è un asse peraltro piuttosto teso in questa fase perché per esempio nella questione centrale di quest'anno che è quella della riforma del patto di stabilità noi siamo con la Francia perché abbiamo più o meno gli stessi problemi e siamo contro almeno finora quello che resta un atteggiamento più severo di Berlino che vorrebbe sostanzialmente ritornare al vecchio patto di stabilità e crescita che per noi è stato un patto di instabilità e decrescita lo si è visto anche dal rimbalzo del PIL appena si è sospeso questo patto e quindi questo crea una tensione d'altra parte senza un rapporto strutturato e privilegiato con Parigi e con Berlino questo triangolo dell'Europa occidentale di cui noi siamo parte non va da nessuna parte scusate la ripetizione poi bisognerà vedere che cosa accadrà invece sul fronte occidentale nel rapporto con Washington cioè soprattutto dipenderà molto da come gli americani riusciranno a uscire da questa crisi se vi usciranno io penso che non sarà facile e infine la pressione da sud cioè la pressione che viene da quella che abbiamo chiamato l'area del caos Caoslandia perché a sud dello stretto di Sicilia in particolare in Africa e in Medio Oriente si concentra la quasi totalità dei conflitti oggi in corso nel pianeta notevoli fattori di instabilità e soprattutto gli stati da quella parte o non esistono o sono delle caserme quindi è un mondo fra l'altro come dicevo in forte crescita demografica oggi ci sono circa un miliardo e trecento milioni di africani ma fra trent'anni ve ne saranno il doppio due miliardi e mezzo tra l'altro con un'età media inferiore ai vent'anni e quindi diciamo con una naturale disposizione al rischio al cambiamento mentre noi saremo sempre più piacevolmente senili